Su Radio 105 le 21 e un minuto, vai! Buonasera, buonasera, ma che bella questa sigla del Night Express! Allora, puntatona oggi, sorpresa! Non sono Rebecca Saffelli, non ci provo neanche ad imitarla, ad essere come lei perché lei è bellissima! Sono Valeria, sono Valeria e non mi ricordavo che effettivamente questo programma avesse cambiato la sigla! Ne ci sapesse!